Ciao a tutti, stiamo uscendo dal centro commerciale e stiamo andando Ah, eccola là la casa che ti volevo dire da c'è quella qua a Leder, è famosissima Allora, adesso andiamo a vedere i giardini di St. Stephen Gardens qua ci sono degli artisti gerlandesi in, thanks so much, we often play in Munich, Cologne, Berlin, Frankfurt, Stuttgart e... Andiamo a vedere qua Allora, lì ci sono i giardini dove adesso andremo Adesso andremo Qui ci sono i callesini, qua è carissimo Più che a Napoli 50 euro e mezz'ora Per un... 30 euro un piccolo giro 50 euro e mezz'ora e 100 euro un'ora Da più avanti c'è una casa con Leder Quella che volevo farti vedere Oh, bello Allora qua Hey, hello How are you? Bello Quello tutto nero Bellissimo, guarda Andiamo a vedere questa cosa che dice papà 30 Sì 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 Caro, carissimo La casa con Leder Ciao Ciao Come vedete i bambini hanno fatto un po' di shopping Sì Eccola qua Eccola qua Ci prendiamo il pullman e facciamo il giro Eh? La prossima volta ci prendiamo un pullman e facciamo il giro Ok, questo cos'è? Questo cos'è? E' un visit No Ecco questa è una... Guarda che roba Vedi Beh Sì, non mi ricordo per cosa però Poi lo cerchiamo nel libro dell'Irlanda Vedi Bella Ma che cos'è? Bella E non me lo ricordo più Sembrerebbe un hotel ormai Guarda quel pullman là strano Quello giallo Che bello Che strano che è quello Andiamo a vedere Andiamo a vedere Sì, dai Allora Tanto attraversiamo quando si può E... Così E qua ci sono proprio tutti Ah guarda lì si può andare al giardino Vedi Se si può attraversare Ma ora attraversiamo E non devo andare Ma perché magari li faccio mangiare No, non torniamo più qua dopo E' solo uno sguardo al giardino Guarda, no, come c'è? Guarda, la bussia Saranno i lavori in corso pronti Questa è quella dell'asfaltatrice Eccola Guarda che sono vestiti da vichinghi No, è fantastico Dai, dai Andiamo a vedere i vichinghi Nooo Ma questo Ma questo Ma questo è un mezzo anfibio Potrebbe andare anche in acqua Meraviglioso Viking Splash Tour Ma non mi dire che vanno anche in acqua Ma quello è un mezzo anfibio Vedi? Ma qui Ma questa Ma no Ma questa Ma questa Ma la signora Non deve vedere Ma Ah Ok, però Tu puoi andare qua Questo è un Viking Splash Tour Tu vai lì sopra E questi ti portano anche nell'acqua secondo me Perché questo è un mezzo anfibio Ah 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 Stupendo Ok ok